La pioggia di furti d'auto nella provincia Bat potrebbe non essere legata solo a fenomeni di criminalità di singoli cittadini, bensì essere l'esito del frutto del lavoro, per usare un eufemismo, di vere e proprie organizzazioni criminali, con ambito di azione interprovinciale fra la Bat e Foggia e che si dividono i compiti relativi alle varie fasi del commercio. Basisti provenienti dalle città della Bat si occupano della fase del furto, per poi passare alla fase della ricettazione, questa volta ad appannaggio di criminali della zona di Ciregnola. È quanto ipotizzato dal procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, che ha tracciato una vera e propria roadmap delle auto rubate. Noi abbiamo delle squadre operative che sono quelle che si dedicano alla prima fase del furto, che vengono prevalentemente dal territorio di Andria, di Corato, di Canosa e via discorrendo. Quindi è possibile rivenire una sorta di mappa dei furti, con appunto i basisti che acquisiscono le macchine qui fra Trani e Andria e nel nostro territorio per poi spostare per la ricettazione verso Ciregnola. È possibile individuare squadre diverse che operano anche su territori diversi, con l'unica particolarità che le squadre operative nel territorio della Bat nascono nel territorio della Bat, partono dal territorio della Bat, ma colpiscono anche gli altri territori limitrofi. Per cui una parte della statistica che vede comunque Bari ben collocata purtroppo in quella triste graduatoria è una statistica che è riferibile a squadre operative della Bat. La procura di Trani da tempo ha attenzionato il fenomeno che ha portato la Bat ad essere prima nelle classifiche nazionali in tema di furti d'auto. Problema che affligge particolarmente i residenti nella provincia, che a causa dei ripetuti furti e delle frodi alle assicurazioni, pagano fra i premi assicurativi più alti d'Italia. La Bat è prima in Italia tra 106 province da ormai 5 anni. Questo significa che ogni 100.000 abitanti il numero di furti che vengono denunciati all'interno della Bat è di gran lunga superiore rispetto a Roma, Napoli, a Bari, a Catania, a Palermo e via discorrendo. Grazie. Grazie.